ueila eccoci qua con questo update del ciclo secolare in cui vogliamo vedere un attimo la situazione delle recessioni unite al potenziale taglio dei tassi di interesse unita al nostro ciclo secolare chiamiamolo secolare però in realtà adesso andremo a vedere il ciclo a 32 anni e come si comporta durante i tagli e che cosa può succedere questo è il nostro mitico grafico sullo standard impur io ho vedete diviso tutte le ere diciamo dei dei per vari presidenti clinton era busher abbiamo già visto questo nel ciclo secolare qui avevo anche aggiunto da una certa data i tassi di interesse e i tassi e dopo vengono alzati tagliati alzati tagliati adesso andiamo anche a vedere che cosa succede ogni volta che si alzano troppo i tassi e poi viene e poi vengono tagliati innanzitutto vedete bene come anche qua già senza stare lì a fare grandi grandi chissà quali grandi ragionamenti vedete che qui parte la bolla.com qui iniziano salgono i tassi e tutto sale poi iniziano a tagliare un pizzico e c'è già un piccolo panichetto però sai cosa decidono no aspetta abbiamo sbagliato saliamo ancora con i tassi salgono salgono arrivano un picco e poi qualcosa inizia andare in malora e loro iniziano a tagliare i tassi e dopo però tutto scende per due anni tre quindi non ho capito bene perché c'è tutta questa narrativa a tagliano i tassi quindi si sale ma se se si è salito tutto il tempo che alzavano i tassi perché quando devono tagliarli deve per forza salire ho capito che il concetto fondamentale è che tagliano i tassi fanno quantità divise in quindi e iniettano in attività quindi dovrebbe andare tutto su però non è proprio esattamente così il concetto perché vedete poi hanno tagliato fino a quasi all'un per cento non sono mai arrivati all'un per cento l'economia si è ripresa forte è andato tutto su fino a praticamente era iniziato a salire tutto forte anche i tassi hanno iniziato a salire forte ma tutto saliva ancora fino al picco del crash del Lehman Brothers che ha fatto un disastro e qui hanno iniziato vedete a tagliare già i tassi quando eravamo in questa zona qui ma ormai era troppo tardi cioè nel senso non è neanche quello il senso del discorso che adesso vediamo è cresciato tutto malissimo quindi sono stati col tassi a zero una vita e poi qui c'è tutta l'anomalia di un periodo ovviamente tassi a zero dopo alla fine tutto saliva ma abbiamo capito guardando tutti gli altri video anche col gol che era solo una grande illusione qual è il punto? il punto è che finché salgono i tassi o comunque insomma è più facile che magari i mercati finanziari tendano a salire perché perché comunque primo il mercato finanziario punta all'aspettativa cioè magari se arriva a un tassi si iniziano a salire i tassi i tassi sono alti però dicono guarda adesso arriva un picco tanto però un po' li tagliano ipotesi e i mercati vanno sempre ad aspettativa non vanno mai a 1 più 1 uguale 2 cioè che nel senso che oggi tagliano i tassi oggi si sale e oggi iniziano ad alzarli quindi oggi si scende è proprio no non funziona così primo perché magari l'economia reale ti va in casino ma i mercati finanziari vanno sempre in aspettative che alle volte sono anche troppo anticipate però fatto sta che è così poi se comunque magari aumentano i tassi e non li tagliano cosa significa che l'economia va bene lo stesso perché vuol dire che comunque l'occupazione alta lo stesso vuol dire che comunque l'inflazione c'è ma se c'è l'inflazione vuol dire che comunque bene o male l'economia gira perché se va tutto in depressione recessione si va non solo in inflazione ma in deflazione quindi vuol dire che bene o male il mercato del lavoro eccetera va bene infatti quando venivano tutti i dati qua nel periodo che eravamo adesso diciamo da il botto fino a poco tempo fa ogni volta che veniva fuori un dato del bill un dato dell'occupazione quella roba lì erano sempre positivi in america sempre vada l'economia va bene quindi anche se i tassi stanno alti l'economia va bene l'economia va bene poi da un certo punto di vista anche quella secondo me era un'altra grande illusione perché bisogna anche vedere come con gli interpreti dati però fatto sta che vedete come anche nella correlazione del grande rialzo dei tassi per esempio dal dal botto postbolla.com vedete qui hanno abbassato di brutti tassi poi qui hanno iniziato ad alzarli il mercato è andato su a cannone poi quando le cose si hanno iniziato a girare male eccetera non è che dici ah beh sono andati a zero quei tassi quindi vabbè quindi adesso si sale c'è un elenco è completato anche con un passato ancora più lungo quindi vado direttamente a fare la lista dopo e quindi qua si vede ad esempio il numero delle recessioni allora noi sappiamo che da queste parti è partito il ciclo a 36 anni vedete come verso la fine del ciclo a 36 anni scorso dopo lo vediamo meglio magari con ancora le date quindi anni 70 poi c'erano anche quelle prime da 69 a 70 noi abbiamo praticamente il picco reale sostanzialmente qui non ho messo i tassi ad avutare troppo indietro però tra 69 e 70 c'è sbarco sulla luna i grandi gli ultimi grandi achievement dell'umanità di quell'epoca praticamente vedete siamo siamo ai top praticamente siamo vedete 68 qui si fa un bel top poi inizia la prima recessione e dopo un grafico che andava sempre su qui andava già su un po meno aggressivo però vedete qui c'è la prima recessione 69 70 questa direi che forse è la recessione campanello d'allarme come abbiamo avuto la recessione campanello d'allarme postbolla.com e come probabilmente abbiamo avuto la recessione campanello d'allarme col corlo covid poi c'è stata una serie infinita di recessioni sostanzialmente fino a anche l'81 82 recessioni continue qui ovviamente come ho fatto vedere più volte da grafico non si capisce perché comunque qui sembra quasi che dal 74 riparta tutto e da 82 siamo ancora in trend rialzista anche se insomma noi che abbiamo avuto i massimi però se andiamo a vedere e adesso non lo faccio vedere perché sennò qui c'è messo una vita a caricare sto grafico se andiamo a vedere dall'oro col grafico dell'oro in effetti siamo partiti nell'ottanta come grafico qui ovviamente c'era l'inflazione altissima e quindi anche da qui c'era l'inflazione altissima quindi i valori sono tutti sballati come oggi praticamente come nel 2022 eccetera se c'è un'inflazione altissima e il grafico sembra sempre alto come prezzo però i valori reali quali sono se sul quadrancia ti fa più 300 per cento e lo standard in pur di fa il più 30 per cento vuol dire che non è che sta salendo tanto per merito perché tutto il resto è salito di tutti i beni primari che non hanno nessun merito sono stati finito ma non è che sono saliti come al solito ma è la valuta che è scesa quindi bisogna capirle un po le cose quindi qui si è saliti però come valore reale di questo di questa salita in realtà era molto negativo perché praticamente la roba costava molto di più di quello che saliva nell'indice dopo da qui si è sistemate le cose eccetera se andiamo a vedere poi nel ciclo a 36 anni successivo diciamo qui c'è stata una piccola recessioncina alla fine niente di che negli anni negli anni 90 e questa vedete 89 90 probabilmente l'unica recessione che c'è stata nel ciclo a 36 anni prima dello schianto quello successivo che abbiamo detto che qui vedete in questa zona qua era la zona di centro quindi abbiamo avuto la prima visaglia del crollo dell'87 poi siamo stati un po laterali anche se abbiamo rotto questo massimo di poco vedete e siamo rimasti un po laterali alzisti e poi qui probabilmente abbiamo chiuso il centro infatti c'è stata una piccola recessione e piccolina questo è stato il massimo praticamente di negatività che abbiamo avuto nel ciclo di centro del dello scorso tipo ciclo a 32 anni e in effetti come abbiamo già analizzato più volte questo 87 poteva essere correlato ad esempio al nostro crollo covid poi comunque c'è voluto un po per riprendersi una recessione e siamo partiti qui da grafico non sembra che sia successo granché io qui avevo già messo la freccia perché bisogna anche capire non è che che in quel periodo le cose andassero poi così male ci ricordiamoci che nel 89 90 così è caduta praticamente l'unione sovietica è stato abbottuto il muro di berlino e l'informatica comunque galopava e tutti i settori andavano da dio quindi anche se è stata una piccola recessione poi nei fatti non è successo granché di così grave minimo è stata qualche guerra classica giusto per gradire però e guardate comunque dove era la recessione qui i tassi erano alzati a manetta fino a 10 poi sono stati abbassati fino al 3 per cento in teoria eravamo in recessione dal 90 al 91 eravamo in recessione perché avevano alzati i tassi e qui non è stato grave sta cosa per per tanti altri motivi perché comunque l'informatica era una bomba il nemico era sconfitto non c'erano più nemici tutto andava a gonfie vele alla fine quindi era un ciclo comunque fortissimo questo per più perché per motivi politici lo vede già anche per motivi tra virgolette fondamentali perché eravamo in una piena espansione di un nuovo ciclo economico di una quarta rivoluzione industriale guidata dall'informatica che poi dall'informatica si è passati a internet che poi da internet si è passati anche a smartphone eccetera quindi smartphone ancora no primi cellulari ecco telefonia quindi c'era tutto un volano economico telecomunicazioni perché comunque qui più che internet andava tanto ad esempio televisioni nel periodo di mediaset per dire che non c'era questa roba prima quindi c'era anche tv private di queste cose del genere c'era un volano sulle telecomunicazioni in generale che prima erano magari le televisioni più che altro poi si era l'informatica poi comunque internet quindi bisogna capire un attimo il periodo quindi la recessione è stata qua di centro è stata ridicola adesso invece dove siamo noi oggi andiamo a vedere noi veniamo dalla fine di un 32 anni quindi la fine di tutte queste vacche grasse in cui c'è stato nel 2000 il crash diciamo della bolla.com però non era ancora finita sta cosa il top doveva essere ancora fatto nei fatti e questa è la grande lingua di buyer inversa più grande nella storia che ho chiamato così perché in effetti vedete che dopo vai in double top perché qui era troppo presto per fare il top di questa grande giustra e infatti facciamo un ritracciamento il double top cose che si vedono tutti i giorni nei vari cicli più piccoli e qui c'è stata la prima recessione campanello d'allarme eccola qua nel 2000 2001 torri gemelle però prima recessione campanello d'allarme qui i tassi erano altissimi vedete come sono scesi di continuo i tassi e il mercato scendeva fino a un certo punto che però ha trovato un voto mi è ripartito e poi qui siamo arrivati vedete poi cosa fanno anche i tassi bassi quando i tassi sono troppo bassi poi c'è il rischio di cini neri perché perché l'economia va bene ma non perché va bene per caratteri fondamentali va bene perché stampi soldi hanno stampi soldi succedono cagate come quelle delle le man brothers eccetera perché sono finzioni ci sono delle realtà che dovrebbero fallire molto prima però siccome le pompi con denaro finto questi questi problemi questi cini neri queste queste schifezze che rimangono nell'economia che dovrebbero fallire invece tu le file fai crescere e fai crescere all'infinito e rimangono lì all'infinito ci sono un sacco di aziende eccetera che a sono magari vanno su da questa parte qua mentre tassi sono 0 all'infinito senza nessun merito e creano problemi che dopo quando arrivano i momenti della verità possono essere più gravi vedete che cresce più gravi di un mercato sano che anche qui vedete qui c'erano già i primi esagerazioni però nei fatti il mercato sano sale vari tracciamenti ma se tu fai le finzioni per tentare di tenerlo su tagli tassi stampo manipolo faccio debiti e c'è l'azienda che non produce più ma io la tengo viva perché così con la quelle robe lì valgono 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 poi a un certo punto quando i conti tornano succedono queste cose qui crash esagerati e adesso noi stiamo esperendo questi crash esagerati già da tempo e crash esagerato il crollo covid che è brutto il bear market anche qui già nel 2018 un brutto crash solo perché avevano detto che tagliavano i tassi che iniziavano ad alzare i tassi dopo una vita di tassi a zero capite e perché perché non si 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 accavallano i cini neri che in un mercato sano in economia normale che sale per motivi fondamentali come come è salita qua per motivi fondamentali alla fine perché c'era informatica e tutto e arriva un ritracciamento ma è roba da mercato non roba manipolata perché dopo questo grande crash qua tutto è stato manipolato e quindi qualsiasi no di poi diciamo avuto otto anni di rialzi pare fatto che abbiamo già visto che su loro non era proprio così però sono rialzi finti che dopo fanno pagare i conti prima o poi e i paghi conti non con dei ritracciamenti sani ma con dei potenziali crash stile crollo covid ecco giusto per fare un po la morale poi e adesso quindi qui poi abbiamo il nostro centro e poi vedete verso la fine abbiamo la visaglia del del della bolla dot com e otto anni dopo la grande crisi che quella è depressione proprio adesso in teoria noi nel centro non dovremmo aspettarci una grande crisi in teoria però questo bisogna capire in base a quanto bebole o forte è questo centro adesso noi abbiamo in questo centro la prima mini crisi diciamo mini mini recessione che quella del crollo covid che però è stata subito eliminata ma non perché veramente le cose sono andate meglio questo bisogna capirlo perché hanno stampato una marea di soldi quindi questo è la visaglia c'è sempre la visaglia ve l'ho detto sempre anche in qualsiasi ciclo c'è sempre i primi due poi al terzo c'è la visaglia guardate che qui sta per finire qualcosa e poi c'è la sbrancata finale che magari dopo la visaglia si fa anche un nuovo massimo tranquillamente però poi c'è la visaglia finale si chiude e si va adesso siccome questo ciclo a 36 a 32 anni e siamo a 16 anni è più debole di quello precedente e ci sono meno volani positivi quello precedente purtroppo come dico da tempo io qui mi aspetto qualcosa di grave c'è stata la visaglia del crollo covid ci vorrebbe una recessione persino in un ciclo a 32 anni che era un cannone andava benissimo c'è stata una recessione da queste parti poi qui appunto vedete mercato è andato bene lo stesso perché c'erano talmente tante cose positive che non poteva fare altrimenti ma oggi non è esattamente così questo è il senso oggi c'è sì qualcosa di positivo c'è lei hai la robotica e bitcoin e cripto però però tante altre cose sono molto negative geopoliticamente parlando qui la guerra contro l'urse l'unione sovietica è finita il muro di berlino era abbattuto qui non c'erano più guerre non c'erano più nemici qui era un disastro sotto quel punto di vista anche come come società qui il benessere era in crescita per tutti per tutta la classe media boom economico secondo i boom economici anche in italia stessa nelle regioni del nord veneto lombardia secondi boom economici anche il giappone era in boom economico ma anche gli stati uniti insomma dappertutto boom economici dappertutto di secondo secondo boom dopo il primo boom adesso altro che boom boom nel senso che fai crash perché i classi media sono finite cioè le famiglie non hanno soldi cioè è tutta un'altra situazione comunque non è positiva quindi potrebbe essere già un momento in cui si fa già un brutto 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 ritracciamento brutto crash e poi abbiamo visto comunque come questa storia della narrativa che si dice sempre ma alzani abbassano i tassi si sale to the moon non è vera nel breve perché quando iniziano a tagliare i tassi vedete come iniziano a tagliare e va tutto in malora iniziano a tagliare e va tutto in malora iniziano a tagliare e in teoria si si mantiene perché c'è stata comunque una crisetta però qui vabbè poi era un altro periodo bisogna anche capire i periodi perché comunque anche qui comunque tagliano vedete come tagliano i tassi il mercato non è che vada proprio in bolla quando iniziano ad alzarli invece improvvisamente va in bolla perché perché significa che se alzi i tassi comunque significa che puoi permetterte sostanzialmente vuol dire che l'economia comunque va bene se li tieni alti vuol dire che puoi permetterti che nonostante i tassi alti l'economia va bene si inizia a tagliare forse probabilmente c'è qualche problema l'economia quindi prima c'è l'aspettativa che tagli poi c'è la realtà che l'economia va di merda poi tagli sì in futuro si riprenderà ma intanto vediamo come va male capite è tutto così il ragionamento e adesso io voglio vedere anche le date storiche precedenti andiamo direttamente qua la lista delle recessioni innanzitutto guardate anche quelle più vecchie qui ci sono una lista bisogna vedere la depressione del 15-21 poi un sacco di recessioni in questo periodo 15-21-23-26-29-34 vorrei far solo far vedere questo per far capire come una sorta di ciclo secolare più o meno c'è perché vedete che anche nel 29 c'è stato un grosso crash e poi siamo stati in recessione bruttissima e qui negli anni dal 1800 cioè negli anni 20 e 30 diciamo nel 1800 uguale un sacco di recessioni poi invece qui ci sono state grandi espansioni quindi va bene adesso andiamo a vedere l'800 dai però a capire che ci avviciniamo ci avviciniamo quatti quatti è un periodo in cui poi può esserci non più il mercato che sale e ritraccia il mercato che crolla e tutto va in malora attenzione però vabbè andiamo su qualcosa di più recente lo stesso allora noi avevamo le grandi depressioni eccetera poi abbiamo la recessione del 45 noi non abbiamo avuto qui alla ripartenza dei mercati una vera recessione del 42 perché tutto è ripartito più o meno nel 42 prima perché comunque qui c'era un'economia di guerra vedete qui va tutto giù e poi riparte tutto nel 42 sì però qui a parte fatto che qui era una chiusura nel ciclo secolare sostanzialmente qui c'era una profusione di recessioni che faceva paura poi qui abbiamo avuto la recessione 45 da queste parti qua vedete qui è rimasto tutto un po' piatto perché poi dovevano riconvertire l'economia di guerra però qui era già ripartito tutto tutta la giostra diciamo la verità da qui riparte tutta la giostra bene bene che qui c'è stato l'economia di guerra che pompa poi vince anche la guerra poi qui c'è stata un po' di caos ecco vabbè andiamo avanti vedete qui c'è un po' di caos però poi tutto va relativamente bene e qui ci sono le due recessioni di centro vedete una piccolina del 58, 8 mesi e poi 60-61 che sono quelle di centro sostanzialmente 60-61 con la crisi missili di Cuba sostanzialmente vedete qui c'è il primo avvisaglia qui siamo nella zona di centro e poi qua si fa l'ultima cavalcata quindi anche nel ciclo 36 anni precedente c'è diciamo una doppia piccola recessione e poi si fa l'ultima galoppata può essere uguale anche oggi nel senso non è detto che adesso si sia uno scatafascio ma c'è un'altra piccola recessione e poi si vola anche perché poi bisognerebbe anche controllare a constatare vedete questo prima della fine di tutti i giochi arriva la bolla quindi noi siamo più secondo me da queste parti qua siamo nella zona in cui sì l'economia reale fa schifo sì tante cose non vanno male sì ci sono casini geopoliti ma prima facciamo la bolla e poi scoppia quindi noi siamo secondo me più in quella situazione lì che adesso magari facciamo un brutto crash però poi facciamo una mega bolla delle bolle delle bolle delle bolle e poi va tutto in manola quindi magari abbiamo ancora 8 anni di bolla guardando quello successivo vedete come qui siamo nella fine di quello precedente e anche qui vedete la recessione degli anni 90 e basta qua sostanzialmente perché poi qui dopo che il mercato si è ripreso praticamente abbiamo nel 90 dal 90 al 91 8 mesi di recessione e basta e questo nel ciclo precedente di 32 anni presente è solo l'unico nostra recessione di centro e vedete com'è il centro alla fine dopo il botto praticamente nel 75 arriviamo nel 90 91 recessione in Cina 16 anni dopo e qui c'è tutto l'imbarazzo di centro dall'87 fino al 90 è il nostro centro vedete le cose sono sempre così perché non è che poi alla fine sono a caso succedono perché poi c'è un periodo di espansione poi c'è 2-3 onde 3 onde rialziste sul quadriennale poi c'è un po' di casino poi ci deve fare il centro qui il centro secondo me non l'abbiamo mai chiuso non è finita qua poi bisogna ricordare qui siamo saliti molto di più sì ma perché di nuovo per la grande illusione non per la realtà perché c'è stata la grande illusione perché ci sono i coriandoli quindi bisognerebbe guardare il grafico in oro poi dopo il centro c'è la prima recessione del 2000 però non è finita perché se noi andiamo a vedere ci stava che non fosse finita la giusta perché noi comunque qui era troppo presto dovevamo ancora fare secondo me un altro un altro giro di due quadriennali è che comunque qui è stata la meta aggressiva che c'è stato il crash prima è un po' come è successo ad esempio con bitcoin questo bitcoin nel 2021 a maggio era andato già troppo su quindi hanno fatto un bear market centrale molto aggressivo poi ha fatto il double top fake e poi in realtà è arrivato il vero bear market sono cose che succedono spessissimo nei mercati questi e attenzione perché anche adesso abbiamo fatto questo double top per dire quindi quindi occhio poi c'è stata la ecco la vedete la great recession e qui però è una chiusura di un 36 anni qui c'è una chiusura di un 36 anni perché dico sempre 36 non lo so 32 anni un ciclo di 32 anni e qui c'è una grossa chiusura è chiaro che c'è una grossa recessione e qui che siamo anche correlati come modi come tempi tra l'altro più al 2008 perché se comunque questo ciclo a 32 anni non è così forte già il centro è devastante già il centro può essere molto brutto e se il centro è molto brutto noi dovremmo guardare quasi di più quello che è successo nel 2008 piuttosto che guardare anche altre chiusure di centro passate che erano molto più blande ci sta che succeda una roba simile al 2008 ma non così devastante ma simile perché vedete che nel 2007 2008 si sale si sale si sale tutto tutto è molto poi iniziano i problemi gravi e poi si dicono si vabbè adesso comunque tagliamo i tassi tagliamo i tassi però quando iniziano a tagliare i tassi tutto va in malora si scende si vabbè ma atterrà perché continuiamo a tagliare i tassi e invece qua ci sono le elezioni politiche tra l'altro e durante le elezioni politiche succedono dei casini della madonna perché sappiamo già tutte le cagate che sono successe e anche se i tassi li hanno portati a zero già prima vedete già prima del crash i tassi sono stati portati a zero adesso non so se l'ho fatto perfetto però comunque avevano cioè non volevano far crollare tutto è crollato tutto lo stesso crollato tutto lo stesso malissimo malissimo guardate devasto questa cosa non è per niente da escludere perché anche tutta questa salita è finta tra l'altro sappiamo bene quanto finta è perché comunque c'è la Nike fa schifo è il grafico più brutto degli ultimi 30 anni la Disney fa schifo adesso io esco da questo grafico e non ci torno più perché ci mette una vita a caricarsi vi andiamo a vedere un secondo il gold vedete che poi la questione con il gold come ho detto sempre è un grafico che fa schifo contro il gold cioè il top è qua e noi siamo qui e vedete come siamo laterali merdosi non andiamo a nessuna parte qua vedete qui è tutto ci chiama ribasso guardate che che era altra candelona rossa qui rompe qui che lo sta già facendo vedete benissimo com'è e qui con il grafico con il gold si va giù pesante calcolate che se poi anche il dollaro sale di brutto eccetera anche il gold magari perderà perché anche il gold sembra quasi una struttura di top quindi il gold scende ma gli indici scendono ancora di più del gold e ci ritroviamo qui se ci ritroviamo qui vuol dire che sta crescendo tutto semplicemente quindi non è così non capisco perché si dica ah tagliano i tassi allora si va tutto il mondo storicamente non è mai quasi mai stato così proprio quasi mai perché perché quando iniziano a tagliare i tassi vuol dire che l'economia fa schifo e poi l'aspettativa prossima dei mercati che magari hanno fatto tutta una riaccumulazione un pump in prospettiva magari del fatto che tagliamo i tassi o no in prospettiva che si saliva finché non si tagliano i tassi quando iniziano a dire guarda adesso cambiamo politica monetaria perché l'economia reale fa schifo la prossima aspettativa sarà ma quando è che si riprende l'economia reale allora io intanto vendo cioè non lo so la gente fa le analisi senza guardare la storia che è lì davanti ai tuoi occhi non c'è mai stato un momento in cui tagliamo i tassi e si saliva diretti mai cioè quasi mai non lo so magari c'è stata qualche anomalia no non c'è stata quindi non so perché si si pensano a queste cose cioè non c'è proprio cioè non no no ecco e poi vabbè abbiamo qui il nostro la grande recessione poi vedete il covid recession che viene guarda caso proprio i classici 12 anni circa dopo quindi è il prima visaglia prima visaglia come c'è stata magari più nella fine del ciclo secolare precedente la prima visaglia e ti avvisa guarda c'è un crash la festa finisce però siccome i mercati sono fatti per salire magari ti fanno un nuovo top comunque però è una visaglia di dire guarda le cose non vanno bene però un po' te la becchi in culo che è la visaglia che abbiamo avuto vedete le visaglie ci sono sempre abbiamo un po' di avvisaglie per capire la visaglia del nasdaq la visaglia del nasdaq su un time frame più breve quindi cosa c'è stata l'avvisaglia dell'agosto quindi quando uno qua diceva adesso si risale per andare to the moon era un po' un illuso adesso si sa che gli indici ogni tanto sono bastardi quindi poteva farti anche un top fake e scendere però era un illuso perché questa è una grande visaglia è una grande visaglia che ti fa capire che qui la giostra è finita per ora quindi il VIX ti dà le avvisaglie il VIX infatti se vai a vedere come è fatto il VIX l'ho fatto già vedere anche storicamente lui fa il mega pump prima del vero collasso dell'economia a parte nel CroloCovid che poi hanno fatto un VIX però spesso fa il mega pump per dire prima vedi questo ad esempio è una visaglia nel 2018 c'è stata già la visaglia che quel quadriennale faceva schifo e infatti poi è arrivato CroloCovid c'è stata già la visaglia nel biennale guarda che sì qui si sale ma guarda che questo quadriennale fa già schifo perché c'è una visaglia del genere brutta e infatti dopo era un quadriennale che dopo è andato male adesso qui c'è la visaglia più vicina diciamo che siamo vicini a fine dei giochi e però qui è una visaglia più di breve questa nel senso che però adesso comunque è probabile che ci siano magari dei mesi che magari non fa neanche più un massimo però ci vorrà dei mesi di riprendersi da questi shock non è così c'è solo col CroloCovid che è stato un VIX tutto il resto non è mai stato un VIX arriva la visaglia arriva la prima supposta poi c'è il classico rimbalzo però adesso qui si è capito ad esempio andando sempre sul più breve che qui c'è la nostra avvisaglia il Nasdaq primo grande crash primo VIX che pompa e questa è la visaglia è finita questa giostra questa giostra lunghissima partita dai bottom del 2022 mentre alzavano i tassi mentre li alzavano di continuo e poi li hanno tenuti stabili è finita e adesso li tagliano quindi proprio il contrario proprio il contrario proprio assolutamente l'opposto adesso qui bisogna andare a fare questa chiusura e poi si vedrà oppure andiamo a vedere delle avvisaglie più piccole su su time frame ancora più piccolo qual era l'avvisaglia che finiva la giostra su bitcoin sul più piccolo su un trimestrale secco andiamo a vedere l'avvisaglia del top top che abbiamo fatto a marzo l'avvisaglia abbiamo messo un tempo in basso per far vedere bene eccola qua questo è il crollo covid si sale si sale si sale crollo covid avvisaglia abbiamo fatto un top lo stesso ma era già finita lui si capiva già che ormai eravamo verso la fine vedete queste avvisaglie qua sono le avvisaglie generalmente della terza onda eccetera però ti fanno capire che non è solo la terza onda ma è anche una questione un po' più grande che è finita infatti dopo ha fatto il top e dopo era finita praticamente ti fa capire che ormai siamo verso la fine ecco mettiamola così adesso noi cosa bisogna vedere cosa facciamo noi in questa situazione cioè bitcoin in questa situazione purtroppo adesso vedremo se c'è una situazione andiamo sul nostro bitcoin history un secondo sul nostro bitcoin history un secondo prendiamo tutto noi qui c'è questa problematica che abbiamo già detto cioè o qui abbiamo fatto già la nostra chiusura del ciclo a 16 anni che però non si allinea con le chiusure dei mercati perché comunque bitcoin è nato assolutamente alla crisi di Lehman Brothers è partito assieme ai mercati tutti i quadri renali sono tutti sincronizzati perfetti anche qui la questione dell'alving in quattro anni bisogna capire se Satoshi Nakamoto in quanto genio si era correlato con i cicli quadriennali praticamente nel fare l'alving e allora uno vede i cicli dell'alving però sono i cicli di quattro anni di tutti i mercati quindi anche qui la situazione è pericolosa perché se praticamente da qui sostanzialmente non è partito niente questa sarebbe la sostanza da qui non è partito niente perché è più correlato al minimo del crollo covid che comunque è tutta un'area perché con questa corona covid qua è tutta un'area quindi noi siamo correlati siamo come ciclica noi più col pensiero che sia questo il quadriennale quindi questo il quadriennale si va to the moon il problema è che questo quadriennale può essere un quadriennale ribassista se è un quadriennale ribassista qui ti fa il double top perché questa è la fine tutta un'area di top di un ciclo che non si vede perché non c'è il top precedente se vi è un ciclo a 16 anni che fa il top quindi tutta un'area di top e poi gira ribasso malissimo e quindi sarebbe praticamente anche potenzialmente un quadriennale che si vincola poi a ribasso una roba devastante questo va visto ovviamente non vorrei essere già così catastrofista però il fatto che abbiamo fatto il top nella prima parte per tanti è un qualcosa di super positivo che dice siamo già qua su già adesso figurati cosa facciamo dopo ha un senso pensare così ma forse addirittura è l'opposto cioè che siamo già col top e dopo ci facciamo due anni di ribasso perché quando andiamo a fare i top del centro ad esempio quando c'è un ciclo molto forte fa la prima onda la seconda onda la terza onda poi fa il top nel centro nella quarta onda ma quando fa il top nella quarta onda fa il top nella prima parte e poi deve chiudere e quindi viene un'idea di ah ma qui siamo già così forti che abbiamo già fatto il top quindi figurati cosa facciamo nella seconda parte e invece non è vero perché la seconda parte va a chiudere tutta questa roba qua e quindi il top viene fatto subito però è fake capite bene la cosa se questa è la situazione capite bene che qui precipitevolissime volmente se è quella però poi bisogna vedere bisogna vedere i mercati magari non è così magari anche questa recessione è lieve e non succede niente di che magari fa una doppia recessioncina poi le cose si aggiustano perché comunque le cose positive al di là della geopolitica che fa cagare la politica fa cagare le famiglie sono tutel sull'astrico eccetera eccetera di volani potenzialmente grossi per il futuro ce ne sono perché bitcoin è un volano stesso le crypto sono un volano stesso le AI è un volano stesso e la robotica è un volano stesso anche i visori i metaversi vedremo di roba sul piatto che può andare benissimo c'è però capite bene che se invece le cose girano per il peggio potremmo vederci un nuovo 2008 adesso magari un pochino più debole del 2008 perché è un centro però simile e quindi vedi i mercati che dopo essere saliti un po' senza merito perché anche se andate a vedere le salite di questi Nasdaq di questi standard and poor capite bene che sono saliti solo perché le big tech sono salite e anche qui bisogna capire ma le big tech perché sono salite così tanto perché veramente meritavano o perché erano politicamente schierate da una parte e le hanno pompate all'infinito e mandando in malora tutto il resto e se va sull'altra parte e magari tenterà di ostacolarle un po' le big tech allora avremo un periodo senza big tech o con le big tech che performano meno ma per ora il mercato è salito solo con le big tech quindi capite bene che ci sono anche delle questioni fondamentali da capire quindi qui sale 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 e sbrum poi volevo far vedere l'ultima roba poi chiudo e guardate come siamo crollati con nel 2008 qual è stato il movimento di crollo vedete che qui c'è stato vabbè qui era tutta una flag però vedete quanti rimbalzi 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 poi c'è stato l'ultimo rimbalzo qua e poi c'è stato il collasso qui ogni volta era dai che si va to the moon dai che si va to the moon dai che si va to the moon adesso ci si riprende è ripartito qualcosa invece è vincolato subito a ribasso e il crash vorrei far vedere nel più piccolo perché qui siamo a settimanale come siamo messi noi siamo messi più o meno simili non sembra ma è la stessa conformazione prendiamo un bitcoin history va è la stessa conformazione più o meno perché vedete quante onde di adesso si va to the moon adesso si va to the moon poi fa anche se siamo un po' più su vedete fa la piccola onda che poi da qui si vincola già a ribasso quindi non pensate sia tanto diversa da quella conformazione è molto simile e questa è la conformazione che se persa fa veramente lo sciacquone è epico perché qui tutti i tentativi di rimbalzo poi qui parte veramente qualcosa ma è scarichissimo e poi boom giù come non ci fosse un domani ecco quindi attenzione adesso sul brevissimo chiudo poi magari qualcuno questo è un video più di lungo e volevo stare più sul lungo vi faccio vedere sul brevissimo che avevo fatto il video di ieri sulla questione che magari questo settimanale poi va a fare un top di settimanale inverso potente eccetera però attenzione attenzione perché qui intanto questo giornaliero si è vincolato a ribasso siamo nel fine settimana è un casino anche qui sta facendo un bel rimbalzo io ho anticipato un attimo il short però in realtà qui è vincolato a ribasso quindi adesso sarebbe molto più probabile adesso mai rifare il rimbalzo comunque del giornaliero inverso però a questo punto è più probabile un ribasso perché qui abbiamo vincolato a ribasso questo giornaliero però può anche fare una struttura di big giornalieri fine settimana marcio e poi lo fa lo stesso con il movimento che ho detto ieri attenzione rispondo un po' alle domande così sul finale perché tanto comunque questo è un video più di lungo più che più che le domande di breve però siccome qualcuno lo guarderà adesso rispondo lo stesso adesso a un paio di domande vediamo un paio di domande ah tra l'altro c'è la finale di Sinner adesso vado subito a vederla ok ah sì ciao ci siamo ritrovati su coin poker pensate l'ultima zona di supporto potrebbe essere quella che va dai 50 altrimenti scende fine ai 41 48 giusto il long di copertura è sì però devi calcolare sul breve io perché ti ho fatto quel video là di ieri e avevo aperto anch'io il long ma ho già preso il target qua e mi è uscito stop a zero cioè non è che per forza è una cosa che deve farla cioè vediamo perché adesso per esempio siamo tornati bearish quindi i long di copertura io ho capito ma devi farli devi farli guardando bene perché il long è molto più pericoloso adesso dello short cioè il long va visto con molta prudenza anche se magari veramente fa quel pan plan non è detto cioè non è detto quindi bisogna farlo con molta prudenza il long e lo short se uno spara a caso fa lo short stai attento stai attento perché io ho detto sì adesso va a fare così ma io non ho la sfera magica non sono un indovino cioè se anche l'analisi era data dal fatto che ho visto un giornale l'ero di alzista e qui magari doveva continuare non sta continuando ho capito che siamo nel fine settimana e lo vedremo meglio lunedì e lunedì è una giornata di acquisti e anche i mercati sono scesi parecchio quindi ci stavano in balzo dappertutto però non è certo quindi è più pericoloso andare così a tentoni sul long cioè devi sparare perché ci vogliono più più conferme quindi l'impatto di tali di tassi ti interessa successivamente sia che di 25 negativo è l'ho appena detto questo è proprio un video fatto apposta sì molto probabilmente sì con l'inizio grafico al minuto 8 9 essendo fino a 30k oltre le messe per l'entità del calo erano più un movimento ho capito cosa ti intendi questa roba qua che ho disegnato sui semi questo è un disegno che mi faceva pensare più al movimento ok al movimento che può fare più che al target price per forza però in effetti può arrivare fin là non c'è nessun problema che arrivi fin là perché qui c'è anche una grossa inefficienza qui c'è la partenza dell'annuale precedente qui oltre alla chiusura di sto biennale vediamo bene che le cose non stanno andando per il meglio io dal mio punto di vista tornare sui 29-30k ci sta tutto però non sono un indovino il primo livello che da guardare come ha detto anche il ragazzo precedente è chiaramente la zona di 40k prima si guarda la zona di 40k 39-40 questa zona qua che va da 44 a 39 poi si vedrà se va a scendere ancora di più ovviamente vediamo con i tempi con i modi siamo qua tutti i giorni va bene diciamo che abbiamo finito per questo video di aggiornamento sul ciclo scolare è tutto ci vediamo alla prossima ciao